E quindi mi piace stare da parte di questi poveri che tentano di avere qualcosa, di sopravvivere. Quando viene qualcuno che mi racconta queste storie, mi ricordo male. Male e mi dà coraggio, mi entusiasmo per fare una cosa. A fine da giovane io ero un po' così, mi sentivo così, a voglia anche di una cosa più giusta, più equa, più umana. Grazie a tutti.